... Ha trovato zio questo cavolo di uccello? Ferito, allora l'ha preso. E ora che succederà? E' un vecchio ballerino, non lo lascia. E tu? Ma che animale è? Che uccello? Un vecchio ballerino, l'ho detto! E ora? Non l'impariamo, l'ho detto! Portiamo allora la gabbia fuori? Sì. Vai! Ecco la faccio, però è molto che va. Prima l'ha portato fuori. C'è un uccello, c'è una stanza qui. Ma che uccello è per questo? Un picchio. Picchio, sei sicuro? Sì. E' curato da poter volare? Sì, ne si. Vai, riusciamo. Secondo me sì. Sei sicuro che volerà? Hai visto che vola? Sei sicuro? Che stronza è un uccello, purtro. Se c'è un picchiazzo... C'è un picchiazzo sul uccello. Allora, fai. Zio, puoi prendere la gabbia? Aspetta, tu dici che volerà? Sì. Apriamo, vogliamo far assistere al tuo padre? Dici che vola, Antone? È solo per provare. Se non volerò... Aspetta, così gli fai male. Aspetta, Flavio. Cosa devo fare? Perché devo... Ma... Vincolo con le mani non posso fare. Vediamo se se ne va. Scusa, se apriamo la cosa. No, così dal buco. Ma questo non è in grado. Flavio, se non vola, puoi prenderlo. È di una difficoltà inaudita. Mi dice che non me ne vuole. Ma questo mi pare un po'... Tu la tocca. Ha volato! Dov'è? Se ne andatevi. È lì. No, no, è sull'albero. È solo... Se ne andate.